Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video, oggi siamo qua con un video riguardante un microfono della N-Design, l'M1 Pro, ci tengo già a precisare che non è sicuramente un microfono professionale ma è un microfono che comunque sia, rientra nella fascia low budget che però per quello che costa per molte persone può tranquillamente fare il suo scopo senza dover spendere tanti soldi magari per un Rode o un Comica come il microfono con la quale sto registrando io è uno shotgun disponibile e compatibile soprattutto per mirrorless, telefono, ipad, computer, quindi versatilissimo qualità del packaging, trova il tempo che trova, ma vediamo cosa c'è al suo interno che poi è la cosa più importante lo vediamo comunque sia anche nell'immagine, microfono molto piccolo quindi può sicuramente essere utilizzato in diverse situazioni l'apertura è molto scadente diciamocelo, rispetto a quello che abbiamo già visto altre volte comunque sia e ci si può aspettare di meglio la borsetta per poterlo portare in giro, che comunque questo è apprezzabile, dove all'interno si trova sia l'accessorio, il famoso gatto morto chiamato così, proprio perché comunque va a filtrare il vento e tutti i rumori quelli esterni che non sono da registrare e poi all'interno c'è il microfono che vediamo come è veramente molto piccolo, cioè ci sta in un palmo della mano scritta N-Design, che è l'azienda che lo produce, M1 Pro il modello del dispositivo, ingresso in e out non ha altre particolarità per quanto riguarda il mix, made in Cina, ma questo l'avremmo già sospettato e il microfono poi è lui, cioè quindi nulla di particolarmente complesso per quanto riguarda invece gli accessori, prima di andarlo a provare il microfono troviamo il supporto per mirrorless con il supporto per evitare che traballi, quindi quando fate il video evitate che comunque sia si stacchi dalla mirrorless un cavetto per poterlo collegare sia al telefono che al quanto riguarda la mirrorless infatti vedete c'è il simbolo di una fotocamera qui qua sotto, non so se metta fuoco ok, o se no c'è il simbolo del dispositivo come in questo caso qua è l'iPad che andiamo a usare dopo pannetto della hand design, che questo è sempre molto utile, infatti lo teniamo via e poi al suo interno non c'è altro che delle istruzioni andiamo a provare insieme il microfono al volo così cerchiamo di capire un po' come funziona e soprattutto come si sente allora, l'audio che state sentendo adesso è con un comica wireless, lavalier quindi sicuramente fascia alta io prendo un adattatore Type-C Jack perché? Perché andremo a utilizzare come sempre il nostro iPad Air M1 nella quale andiamo a inserire l'adattatore e in questo adattatore qua inseriremo anche il microfono che in questo caso qua va collegato in questo modo qua in, entrata in e poi nell'uscita out ci collegheremo il microfono una cosa che ci tengo a sottolineare che comunque sia il cavetto non è male e se ve lo stiate chiedendo l'ingresso out serve semplicemente a a fare in modo che si possono collegare delle cuffie per poter sentire il registrato quindi assolutamente una funzione che per quanto mi riguarda può essere utile soprattutto per capire come sta registrando e con quale qualità abbiamo capito che si sta scaricando vediamo se abbiamo l'applicazione per poter registrare gli audio che in questo caso qua mi sa che non c'è però noi facciamo una cosa la andiamo a scaricare in diretta non c'è neanche bisogno di bloccare il video anche perché l'applicazione è quella della Rode quindi quella famosa in realtà ci sarebbe anche quella diciamo quella sua però personalmente cerco di evitarla perché è un'applicazione molto cinesotta quindi assolutamente non adatta all'utilizzo su un dispositivo simile anche perché vedete l'ho scaricata praticamente subito accettiamo confermiamo microfono interno vedete in questo modo lui non sta riconoscendo questo adattatore qua se ci fate caso non funziona perché sta sentendo il mio audio ma non sta sentendo l'audio esterno quindi questo è sicuramente un problema che effettivamente non mi sarei aspettato più che altro perché in teoria dovrebbe andare senza problemi anche in questo modo qua anche perché altri microfoni di questa fascia qua li ho sempre utilizzati ma in questo caso qua il microfono addirittura non viene neanche riconosciuto proviamo a fare uno switch e vediamo se cambia qualcosa ma mi sa tanto che la compatibilità quanto ha detto da loro non è sicuramente il massimo perché comunque continua a registrare da quella interna non si capisce perché toccandolo lui non produce rumore se non dal microfono stesso proviamo a fare un'altra cosa invece stacchiamo il cavetto e proviamo ad attaccare il cavetto della mirrorless e vediamo se cambia qualcosa perché so bene che c'è la versione TRS e la TRS doppia S che è quella che si utilizza in determinate situazioni e il microfono interno continua a rimanere lui quindi sicuramente la prova migliore da poter fare è quella proprio di utilizzare e attaccarlo alla mirrorless quindi stoppo un attimo il video e vediamo come funziona attraverso una modifica molto casereccia sono riuscito a sistemare l'audio infatti cosa ho fatto ho inserito un cavetto come dicevo prima Type-C jack da 3,5 ho inserito l'adattatore del Rode quindi dell'Avalier della Rode e non quello suo che a quanto pare non funziona e poi abbiamo il microfono funzionante si capisce perché se facciamo così si riesce a registrare quindi facciamo la prova del 9 la prova del 9 funziona che clicchiamo lui sta registrando in questo momento l'audio dal microfono quindi riusciamo a capire come funziona il microfono e soprattutto come si sente questa è una distanza un pochettino più lontana rispetto a una normale registrazione se ci dovessimo avvicinare proviamo a fare 1,2,3 prova questa è la registrazione con il microfono della N-Design l'M1 Pro dopodiché voi sentirete questa parte di audio sicuramente con col microfono e non con quella dell'Avalier che sto registrando io dopodiché terminiamo la registrazione e andiamo nella libreria che poi dopo mi servirà a me per sentirlo però sentiamolo insieme dai sinceramente non si sente male per tener conto che un microfono di 30 euro non si sente per nulla male sicuramente ci sono prodotti migliori questo non lo metto in dubbio anzi ci mancherebbe altro però per quello che costa secondo me questo microfono qua può fare al fatto vostro magari dovete fare una registrazione all'esterna e avete bisogno di un microfono al volo è sicuramente un microfono che qualità prezzo riesce comunque sia ad essere molto molto interessante e poi veramente molto piccolo lo potete tranquillamente utilizzare anche come microfono per la mano tenendolo in mano senza doverlo per forza appoggiare alla mirrorless e si riesce a fare senza particolari problemi anzi è molto molto semplice detto ciao spero che il video sia stato di vostro gradimento se lo è stato vi invito a lasciare un mi piace iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti